Il famosissimo Nicky Savage Aspetta fammi flippa Anzi in realtà me posso mettere anche a destra Mettole qua Nicky Savage Ma ne mezzo Mo fate un attimo voi due conti A me non mi dite niente Signori il nostro pagolo Nicky Savage Ci ha mandato un video E' stato un po' incerto E ma mo ci pensiamo noi Quindi subito un bel pollice in su Subito un bel commentino per il vostro ciccio gamer 89 Nel nostro intimo c'è Cilli Arriva la nuova limited edition di Ringo e Netflix Ringo e Netflix insieme E' un'altra storia Con Ringo vinci una delle 100 story box Per goderti Netflix Spice 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 Chicken McNuggets La tua lingua Non sarà più la stessa Parapapapa Ho fatto uno sperimento No che cazzo ha preso Il pane cinese Guaobao Chiamatelo un attimo come vi pare Guardate Ma scusa non è il bao Quanto mi è venuto bello E' la prima volta che lo facevo E l'ho fatto per questa occasione Perché ti voglio personalizzare Questo panino In una maniera che tu non hai mai visto Perché voglio fare Dei gamberoni argentini Panati con il panco ragazzi Questo pan grattato a grana grossissima Se non erro Giapponese Potrei anche sbagliarmi Ti ho fatto arrivare Direttamente Sono la tua migliore amica Antiche vallate giapponesi Tommaso grazie per il porto Questa alga Che tutti conoscete E' buonissima Croccante Minchia questa No a me questa non mi piace Questa è la E' quella che inizia con la W Mi pare Come cazzo si chiama Panno il sushi E' buonissima Cipolla Quella disidratata Anch'essa Croccantina E' il wakame E poi Ci metto un po' di salsa Si rilascia E ateriaghi ragazzi Non mi ricordavo Scusatemi Quindi di base Il panino E' questo Oh ragazzi A parte tutto Un bel pollicione in su Mamma mia Sono lasciate Sono cazzi amarissimi Allora come dobbiamo iniziare In realtà è molto molto semplice Mettiamo l'olio sul fuoco E Dato che questo è il primo video Che faccio con l'iPhone 16 Qui c'è il secondo iPhone Che è il 14 Pro Ah regà L'iPhone 16 comunque E' introvabile Non si trova Quello del 16 Pro Che mi aiuta Nelle riprese quelle Secondo me Pare di mio totalmente personale Io ho preso un ovetto Per vedere se Andavano messi Questi qua Se i gamberi argentini Dovevo per forza Andarli a mettere Vediamo un po' Se Se mi prendono Un po' di panatura Solamente con la loro acquetta No Quindi Andiamo a fare Quello che dovevo fare Già prima Quindi ovetto Andiamo A dare una sbattutina E poi li andiamo A mettere Dentro al banco Quindi Ti sto preparando Un panino Veramente Fuori Di testa Ci ho messo Scusa La panatura Col parmigiano In circa tre orette A fare il pane Però lo sapete Lo faccio Ben volentieri E io Una cosa Che ho apprezzato tanto E che commentate Veramente tantissimo Sotto sti video qua Cioè Vi sentite proprio Parte Della ricetta E a me fa Davvero Tanto 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 Piacere Dovrebbe essere Super A temperatura Forse anche Troppo Dovrebbe Ah è la panatura Giapponese Proprio Vedersi Di tanto Che cazzo All'inizio ha detto Mezzo parmigiano Tempo che diventano Croccanti E colorati E ci siamo Ma scusa Cosa è la panatura Quella lì Che fanno anche su Cioè La tempura Dovrebbe succedere Veramente in tempi Veramente brevissimi Ragazzi La pastolina cosa Non mi sembra Troppo pulito Il pane Poi magari è buono Però mi sembra Un po' troppo A panino Esattamente Mamma mia ragazzi Che soddisfazione Mamma mia Che soddisfazione Infinita Mamma mia Mamma mia Mamma mia Impiattamento Ferocissimo E super Cattivo Ovviamente Niki mi devi far sapere Se ti piace O se non ti piace E se provieni Da Twitch Perché cosa vede Le reaction Tutta sta roba qua Ragazzi Se vi va Di andare a lasciare Un bel pollice in su Sotto al video Mi fate Stracontento Grazie mille E ditemi Che ne pensate Del panino Andiamo a prendere I nostri Gambe Scusate Scusate Mi è partito il test Ok Dunque ragazzi Madre di dio Cioè non Madre Di dio Cioè poi lo so che sono buone Cioè sono persone che se mangiano solo le alghe Proprio di gusto Ma a me mi fanno schifo Quanto sono buoni Orca miseria E io direi basta Io direi basta Però i gamberoni sembrano veramente buoni Scusate Merda raga Mamma mia Fatto questo Io ci volevo mettere Ci volevo mettere questa Esatto La tua lingua Non sarà più la stessa Parapapapa Arriva la nuova limited edition di Ringo e Netflix Ringo e Netflix Insieme È un'altra storia Con Ringo Vinci una delle 100 story box Per goderti Netflix Vito Sembra pulito il panino L'unica cosa è quelle alghe Cioè non mi piacciono Poi magari so buone Ma mi fanno proprio schifo Incredibile Però pare buono il panino Ma secondo me Sto giro Abbiamo Esagerato E non Non nulla Abbiamo veramente esagerato Grazie per il premolo Benvenuto Ed eccolo qua signori Mamma mia Niki Savage Ti dedico questo panino Ed è Fottutamente Bello E secondo me E secondo me Ed è fortunatamente Anche buono Facciamo E raga Che vedevo di Io Non so se tagliarlo a metà Non so se buttarci La faccia Instant Non lo so Non lo so Non lo so Perché è una cosa Incredibile Fuori di testa Cioè non so che dirvi Non so Se rende l'idea Niki E tu me devi fa Assolutamente Sapere Addio Raga Vado Vado Questo esploro Io ve lo dico Qui c'era bisogno Della carta Dietro Insomma Ma questo è una roba Bella Interessante Sono la tua migliore amiga Vado Lo faccio per voi Madonna Quella mia E sarò Tremendamente Cattivo Con me stesso Mamma mia Finta che io Fine anno Riesco ad aprire Una hamburgeria a Roma Ma facciamo finta E trovaste Questo panino Quanto lo paghereste Il menù Con una bella Bottina di coca cola E tra l'altro C'ho sopra le patatine Quelle 3 euro e 50 Quelle cinesi Bianche Però con delle patatine fritte Quanto lo paghereste Sto panino Perché guardate Che è veramente Incredibile Così sembra un guabao Sì sì Ma è un guabao Ovviamente fatto a panino Ma alla fine Sì ma io gli ho mandato Cioè io gli ho mandato Il video Il video mio 3 settimane fa Tra un po' Niki Savage Un sogno che si avvera Come Gli ho mandato Un panino Clamoroso La fa Un sogno che si avvera